Migliaia di cartelle firmate dall'Agenzia delle Entrate, vecchie anche di 10 anni, relative a prestazioni di pronto soccorso a visite mediche prenotate ma effettuate, per le quali l'utente è costretto a pagare lo stesso il ticket. Sta facendo discutere l'operazione di recupero crediti messa in campo dalla Asle 1, diretta dal manager Ferdinando Romano. Tantissimi cittadini in questi giorni si sono visti recapitare queste cartelle, alcune vecchie addirittura di 10 anni e della somma di 25 euro, oppure 36. Il Tribunale del Malato è entrato sulla questione e chiede chiarimenti alla Asle per capire soprattutto se prima delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate sono stati inviati dei solleciti ai cittadini, che ora hanno tempo solo 8 giorni, il limite per il pagamento è il 30 novembre, per pagare e mettersi in regola. Tramite l'avvocato Katia Puglielli, il Tribunale del Malato aveva già chiesto all'utenza di verificare la data della prestazione sanitaria, per vedere se c'è prescrizione, è decennale, e dunque se ci si può opporre in alcuni casi. La realtà è che se non si paga si rischia di incorrere in interessi e sanzioni. La Aslo 1, intanto, tramite il direttore amministrativo Stefano Di Rocco, ha parlato di atto dovuto e ha comunicato che è stato istituito un ufficio ad hoc per rispondere a tutte le richieste dei cittadini. C'è anche una mail dedicata, recuperocreditichiocciolaaslo1abruzzo.it. Ma la faccenda rischia di diventare anche politica, perché per alcuni la Asla cerca di fare cassa in modo sbagliato, in un momento che è grande difficoltà per tutti i cittadini e le famiglie.